Buonasera, buonasera, come all'improvviso ho sistemato tutto, buonasera dall'ora dello zenzero, penso che sia sistemato e si vede giusto, come vedi sono qua vivo e vegito, però poco fa ho letto un poco di messaggi poco poco carini, vedo che il sottoscritto è sempre come all'improvviso, non fa niente di male, un abbraccio a tutti i siciliani e tutti quelli che vivono lontano, un abbraccio veramente di cuore a tutta la Sicilia, tutta l'Italia, tutto il mondo, dopo che qualcuno a me mi odia a morte, io non so queste persone che mentalità hanno, ho letto dei messaggi, e questa è una persona, è bene che tutti lo sapete, è di Termini Merese, si chiama Brigida, si chiama la signora Brigida, questa è poco carina, dei messaggi mi ha detto a che poteste tu muore, ma non muori mai, cara signora Brigida Amoruso di Termini Merese, lei sarà l'unica pecora nera in quanto riguarda, perché Termini Merese saluto tutti i veri, veramente i veri persone di Termini Merese, che mi sono veramente accolti con grande onore che io sono stato a Termini Merese, questa persona Amoruso Brigida che augura la morte a me, che io non ho fatto niente di male, soltanto che io do un saluto e mi piace dialogare con tutte le persone buone, veramente che il re dello zenzero ama veramente, veramente, veramente le persone, ama in senso, allora ama, mi chiamano in privato, magari qualcuno magari si va, allora il sottoscritto, il sottoscritto effettivamente non ha detto e possono testimoniare tutte centinaia e migliaia pure di donne sposate, di donne non sposate, se il sottoscritto ha sbagliato mai, mai una volta, mai una volta, sempre educato o salutato, è sottoscritto il re dello zenzero, il re delle buone tisane, una buona dieta, ha dato buoni consigli e tante persone effettivamente il sottoscritto sono veramente ingazzato, stasera sono ingazzato, a prescindere che già dalla diretta, la prima diretta mi spuntano tante facce, sbagliaio a maccare un bottone, è successo qualcosa, però ho voluto venire in diretta, in quanto non mai che sono veramente, mai l'ho detto, sono veramente ingazzato, e dopo pure per la persona, l'elio, l'elio da San Catallo, che io gli mando un saluto su un messenger, buongiorno, con la mia foto, come mando a tutti, che dico buongiorno e metto buongiorno senza niente di male, questa persona o lo fa apposta o non lo fa apposta per tutto rispetto, per quelli di San Catallo, veramente che sono pure persone educate, però sempre dicendo come a termine merese che c'è una piccola negra, che è Brigida Amoruso, questa donna, è il signor Lelio che mi provoca ogni tanto, che io non la saluto, lei mi può cancellare, signor Lelio, è inutile che ogni volta mi fa, mi rompe le scatole, a diri che mi fa di impararmi l'italiano, io sono questo, l'italiano non lo faccio parlare, non mi interessa niente, se lei mi vuole come amico va bene, se mi vuole mi può cancellare, questo è un saluto veramente a tutti gli amici, veramente quelli che vogliono bene, salutiamo i veri amici, Salvatore Marco, Emanuele Aragona, Antonio Ferreri, salutiamo a tutti veramente con tutto il cuore, io mi ritrovo dentro la macchina perché in questo momento come solo in Sicilia si fa in Sicilia, c'è una serenata qui vicino, siccome a mia moglie ci piacciono le serenate, in questo momento effettivamente lì di fronte, io sono dentro la macchina, se effettivamente mi girò, mi girò, mi girò, un attimo, allora là sotto c'è una serenata che mia moglie è là con i miei nipoti, che gli piacciono le serenate, c'è domani un matrimonio e c'è una piccola serenata, io mi trovo come solo in Sicilia si fanno queste serenate e mi trovo dentro la macchina, levavo l'occasione per avere la mia diretta con il cellulare, pur sendo che qualcuno odia me, ci può stare, chi odia, chi può fare, però odiando la morte a una persona, io dico che odia la morte dell'altro, questo è un proverbio segnale, chi odia la morte dell'altro, chi da su la vedrà la porta, il sottoscritto effettivamente, severamente non va di male a nessuno, dà il sorriso pensate che tanti, veramente tanti video ho fatto gratuitamente di compleanni, l'ultimo l'ho fatto oggi, ma ho tante richieste veramente di augurio con la corona del re dell'azienda poco fa, ancora c'è la maglietta che non l'ho tolta, sono stato a fare un video registrato per i nostri amici che oggi, anzi auguro in diretta a David, David Giunta che si trova attualmente al Garden, auguro veramente buon compleanno in diretta, auguri veramente, veramente con tutto il cuore David e William e tutta la sua compagnia che William mi ha chiesto veramente di fare questo video, ci sono tante persone, migliaia migliaia di persone che amano il re dello zenzero, l'unico che effettivamente non dice mai una cosa, una cosa effettivamente ciao Laura, Ettore, ciao Ettore, Rosanna Greco, giusto re dello zenzero, grazie, l'onore Ettore, ciao, Ivan Nesacco, ciao Patria, sei il meglio di tutti, no, io sono uno umano, uno che gira la Sicilia, ho incontrato un sacco di amici siciliani veri, ho girato tutta la Sicilia, ho abbandonato la mia campagna dalla villa dove c'è attualmente la piscina, ma effettivamente io sono grato e ne sono fiero, allora ciao Salvina, ciao Salvina, Maria dichiara ciao Ettore, allora Giacomo, allora la gente è pacchina, ma ci sono gente buona, ci sono quelle buone e quelle cattive, bravo, continuo così alla faccia alla gelosia, Veronica Cristiano, ciao Ivan Scacco, ciao Ivan, Vincenzo Ritatelaro, Ettore Eleonora, ciao, Dominicchi, salutiamo tutti quelli del Belgio, della Germania, Filippo Martino Ilbicella, ciao Santo, Santo bevi l'acqua, Salvatore Angesi, Ivan Scacco, Veronica Cristiano, esagerato, un sogno esagerato, ho detto la verità, cara Veronica Cristiano, ho detto la verità, se ti faccio leggere tutti i messaggi, ci sono messaggi che fanno schifo, ma non sono tutti, sono qualcuno che magari c'è la molta gelosia, allora, salutiamo Anna Rita Filippone, non ti giustificare con le persone che non meritano, allora, io non mi giustifico con le persone che meritano, però si devono mettere una maschera, perché la maschera purtroppo oggi ce l'hanno tutte, perché ho visto i suoi profili, non si presentano con la sua faccia, io ho sempre la mia faccia presente ovunque, non mi vergogno e nemmeno mi affronto, qualcuno che mi dice, va curcati, va fai e va dice, io mi va curco, io rapporto con gli amici, mi piace effettivamente, se veramente di fare le mie belle dirette, chi ci sta, ci sta, chi non ci sta, giro te lo comando e se ne va, chi sto dico io, Rosanna Greco, ciao Rosanna, Salvatore, Angese, Ettore, Luana Genapullare, ti saluto dalla Favara, salutiamo tutte le persone che sono dalla Favara, salutiamo, un abbraccio, un abbraccio a tutte le persone della Favara, è di Campobello di Licata, Maria Grazia Amico, Ciao Lina, dal 90, Giovanni Vizzini, caro Giovanni Vizzini, va curcati che io sono, se io mi cangello soffeso, perché mi devo cancellare, per dare un'esazio a te, levati tu, mi cancelli tu o non mi vedi niente, caro Giovanni Vizzini, mi cancelli e non mi vedi, io non ti ho obbligato a nessuno di vedermi, questo ti ho detto, carissimo amico, Anna Rita Filippone, chi vuole seguirti non è obbligatorio, bravo, qui c'è un Angelo Vizzini, allora, Erika, salutiamo veramente a tutti, Ettore, ciao Leonora, Vincenzo Santamaria, Giacomo Vacirca, ciao Giacomo, Fabrizio Randazzo, fai vedere la serenata, allora, faccio vedere la serenata, c'è, là sotto c'è la serenata, e da lontano, c'è, faccio vedere il ritorno a loggio, Veronica, vatti a correcarti, che tu forse cangiacanale, vuol dire, per vedere, vuol dire che ti piace ad escursione, queste sono, siete le, i soliti persone che provocate per farvi vedere che io magari, eh, faccio le, delle tentazioni, magari per farmi arrabbiare, e allora, non ci riuscite, riuscite a farmi arrabbiare, io però vi dico che effettivamente, se veramente, dovete mettervi una maschera, una maschera, ma non di carnevale, una maschera, peggio di carnevale, ciao Luigi Farulla, Fortunato Pandoro, ciao, Ivan Neschiacco, ciao, ciao, veramente, Fabrizio Randazzo, potresti essere meglio di fare polemiche, no, ma io non faccio polemiche, però quando ti augurano la morte, la morte, la morte qua, auguro la morte di, la morte di uno, che da su la vedrà a porta, e basta dico, e chiamo avanti che saluti. Allora, bravo partizio a questa persona siciliana, io amo la Sicilia e sono un patriota, veramente, Anna Rita e Filippone, viva la Sicilia, viva la Calabria, viva la Puglia, forza Napoli, viva la Campania, forza Calabria, e forza i Marchi, forza Piamonte, forza Lombardia, e forza l'Italia onesta, quelli disonesti dovete mettervi tutta una maschera, punto e basta, perché perde la pacinzia. Allora, Liliana Scilla, ciao Liliana, ciao Luigi, forza Villa Rosa, forza Sicilia, forza Enna, ma cosa, fortunato Pantosa, sei un grande personale, ci fai dimenticare i problemi, io ho detto sempre, amo la mia Sicilia e amo io ovunque, la mia Sicilia è veramente spettacolare, questi sono i tipici persone non siciliani che effettivamente rompono puntini puntini. Luana e Gero Pullara, forza Favara, tante persone della Favara, forza Favara, tanti amici di Favara, veramente Favara, Campobella, Grigento, Ravanusa, sono delle persone grandissime, Palermo e Catania, veramente Messina, non posso dimenticare neanche Trapani, e nemmeno Ragusa, e nemmeno Siragusa, e che nemmeno Caltanissetta, tutte le province effettivamente, ho tanti amici, e ho girato veramente di otto mesi, mi ho girato quasi tutta la Sicilia, che ci siamo siciliani, bellissimi e splendori e accoglienti. Purtroppo abbiamo le pecore nere, e le pecore nere, allora si abballano la tarantella, c'è la tarantella, e non si può ingrandire. Ciao Rosi, un attimo che mi avvicino, magari là vicino che c'è la tarantella, e magari c'è una piccola serenata all'antica siciliana, c'è la tarantella, mi avvicino, che fa? Allora devo mettere il microfono, perché effettivamente... mi sono avvicinato, siccome non so, c'è la tarantella, ma si, non so se mi sto beccendo, ma la faccio tosta, però effettivamente non so, ma la mogliere, sta ballando la mogliere, ma la mogliere è che già, se mi buttò sola. Posta la Sicilia! Posta la Sicilia! Posta la Sicilia! Grazie! Grazie, grazie a tutti! Grazie, grazie! salutiamo qui c'è la persona di Enna ciao Davide salutiamo a tutti scusate che c'era la musica salutiamo tutta Palermo un abbraccio tutta Palermo salutiamo tutta Palermo come salutiamo tutta Catania un abbraccio veramente ciao Giuseppe Romano Giuseppe Pizzini ciao Giuseppe certina Russo ciao Giussi ciao Giuseppe Pizzini buona salata senza amico grazie fortunato fortunato purtroppo quando ci vuole ci vuole io ho forgiato io ho forgiato sempre la guancia ma però quando devo rispondere dimmi se che ho cancellato un po' di persone che non ne potevo più perché io mi diretto sono fatto in carne e ossa io sono veramente sensibile veramente sensibile e che voglio dire me la prendo me la prendo perché quando uno tratta le persone che vuole bene veramente a tutte le persone pure del bene e del male e magari e magari ti buttano le pietre effettivamente sono sono amareggiato perché non sono robot io sono una persona una persona umana questa è la Sicilia la Sicilia è questa la bellezza la bellezza universale questo è il divertimento della nostra bella Sicilia ciao Giusy salutami mamma Salvatore Mingoya ciao Calzetta Antonino buonasera Salvatore Enza Balbo salutiamo tutta Calzetta Agostino Di Giovanni Varsalo Alessandro tu sei sempre il numero uno ciao Betti buona serata Gaetano ciao Gaetano un abbraccio a tutta Enna Enna Cala Scibetta un abbraccio di cuore un abbraccio di cuore veramente a tutti i miei colleghi attualmente in servizio Michele Parrinello ciao Michele ciao Ivan Scacco ciao Ivan Ivan Scacco Gio Mercurio Salvina Di Marco sei un grande grazie e per notario forza viva Juve e viva Milan grazie per i nuovi regali che ci fa la Juve Iguain e Caldara forza Milan Giusy Giardina ciao Giusy ciao Giusy Salvatore Ningogia buona serata Agostino Di Giovanni ciao buona serata e tutta Santa Catarina ma io allora tutte le città i paesi della Sicilia e tutti veramente i paesi della Calabria mentolara saluto il paese mentolara dell'amico mio della Calabria di Angelo Angelo Zinna Enzo D'Amico buona serata e forza Santa Catarina forza Gela Gela pure grandissima città grandissimi amici amici grandissimi amici lì qua Calabrese Salvatore Rinaudo ciao Giusy tu sei la numero uno che dici nei mentoli tutto a posto ciao Giusy un abbraccio a tua mamma effettivamente e veramente un saluto alla Giusy dalla Toscana Masicula ciao Luca Calabrese un saluto a Luca Calabrese da Roma da Roma chi stai a mamogliare che canta la sua canzone non si è cacciatore già patizzo quanta gente cattiva che esiste e vabbè io ho voluto nominare due persone che effettivamente hanno una vita che mi provocano non lo so il motivo io saluto educatamente sempre le mie dirette sono non essere scimonite babbe ma io amo la Sicilia e la Sicilia voglio che è in primo piano Patrizio Pulito ciao questa è mia moglie che canta Patrizio queste sono persone sono brave solo a scrivere ma sicuramente non si sanno comportare educatamente la sua città e lo so Liliana ciao Liliana un abbraccio Liliana edilardo ciao Lilardo ciao ciao collega ciao ciao Giuseppe un abbraccio un saluto a tutti i colleghi dell'Andingendio che tutti i giorni rischiamo la vita per salvare salvare altre vite Luca Calabrese ciao Luca Francesca Perreira ciao buonasera Francesco Cona Giacomo Rubbello Giussi sei il numero uno uno dei miei fans Giussi Giardina ciao mia moglie lo sto scrivendo a Sanremo e Hermes Piccore ciao Nunzia Cacciatore cosa si festeggia e niente c'è c'è una serenata una serenata e mi sono trovato di passaggio e mentre mia moglie ci piacciono queste serenate effettivamente è una serenata per domani c'è un matrimonio Carla Perrari ciao Carla che bel ricordo ci fai vivere questi sono i tipici diciamo serenate siciliane dei cantoneri sono piccoli gesti ma grandi gesti per quelli che non vivono più in Sicilia Cetti Morabbio ciao Cettina Cetti ciao 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 Maria Maria ciao Maria Angelo Zinna Mendolara salutiamo tutta la città paesino Mendolara dell'amico mio Zinna Angelo un abbraccio Anna Ritorio bellissima salata quanta nostalgia allora ma che festeggia no io non festeggio niente mi trovavo di passaggio come all'improvviso sono passato in questa cattonera e ho visto che c'era questa saranata ho fatto ciao Filippo ho visto la situazione e ero l'opportuna che io sono come all'improvviso queste saranate ricordano belle cose della nostra bella Sicilia e magari qualcuna una bella nostalgia e la batteria mi sta scaricando aspetta quando vai prendo la batteria un attimo ma se no resta montereci vediamo scusate no ma scusate un attimo se ci rinesciamo la batteria si sta scaricando ok allora ho messo il caricabatteria Angela Di Mar ciao Patrizio no no basta basta facciamo ciao Vincenzo salutiamo tutte le persone che vivono in Belgio allora io sei una serenata come all'improvviso ciao Michele Paola Loportia buonanotte Rosario Alice di Francesca ciao allora facciamo le cose belle quelle che effettivamente io faccio di solito come all'improvviso bravo Patrizio buonasera Davide ciao Davide ciao Maria Catena mi sto diventando mi sto diventando un abbraccio di cuore grazie fortunato Peppe Lange ciao Silvana Maria Pia Daniera bella voce ma insomma Claudio Russo ciao Rosa Erika ciao Ange Maria Angela Beccaria Giuse Giardino grazie mi sa che questa canzone sta marronando la canzone ciao Santo Raffaele Rattarzo ciao Filippo Drogo Anna Lisa che bella Villa Rosa grazie grazie salutiamo Ghia Piat di Enna eppure loro sono qua ah niente come Maria Catena ciao come all'improvviso mi trovavo di una cantonera dove domani si festeggia matrimonio ciao Sia legna la paglia fortunata a Pantoro un grande augurio ai futuri sposi sì mia voglia è quella che avete a caschetto chieda tutte le le sape chieda un caglia si invita sola in automatico si va invitando sola si va invitando ma quello è sempre così chi si va invitando ciao Giusy Roberto Carluccio ciao Roberto come all'improvviso allora ma giusto dire così è città da parte mia ciao fortunata sempre tu sembra grazie Nella Magliosi Nella Migliorisi ciao Maria Grazia Cagnina ciao Santino Imbroglio Bernadette ciao Bernadette Andrea Viola ciao Michelina Magro ciao Angela augurona alla famiglia augurona Angela Dusto ciao Maria Grazia Cagnina Vanessa ciao Vanessa Salvatore Nicoletti Salvo Simbandino Roberto Carluccio ciao madonna va vinto mi fanno dice che stacca mette una tarantella alpio rotella perché insomma la Sicilia è come 50 anni fa è meglio antica che moderna auguri giusin e salvatore ai futuri barito e moglie Maria Elena Casale ciao Carmelo Di Pietro ciao Antonella Ficarra ciao buona serata abbiamo finito così sicuramente ok allora effettivamente sono qua sempre vivo e vegeto senza polemiche e voglio augurarvi veramente una felice nottata una felice serata dal re dello zenzero in questa larghissima piazza ma qui non siamo in piazza è una strada di Villa Rosa là sotto c'è una chiesa e Villa Rosa ha le strade molto molto larghe Villa Rosa c'è diciamo bellissima Villa Rosa è bellissima purtroppo tante persone da 15.000 persone siamo rimasti solo 5.000 e 5 compreso forse i gatti e 4 caggiene e 4 diciamo cagnolini che ci sono piedipini siamo un paese diciamo come estensione grandissima ma come popolazione poco ma pochi ma buoni e siamo persone accoglienti non siamo persone come certuni ci giudicano ciao Giuseppe si ci sono fanno un po' di karaoke che stanno mangiando un po' di karaoke se questa sera non mi si preoccupare non fosse più senza di te come vorrei come vorrei amore mio come vorrei che questo amore è il nome mio non ti scioglie se come vada nella storia senza più s'affrontano non ti scioglie ma ma non ma non ma non quanzi è Andre in una nuova c'è che sono tu mi ti fai trovato Ciao Angelo, mi senti? Mi senti Angelo? Sì. Avvicinati, mi senti? Io sì. Mi senti Angelo? Sì. Aspetta che c'è troppa musica, troppa musica. Ciao Angelo, come va? Io ti sento. Ah, ma adesso c'era troppa musica, non sentivo io. C'è la musica, c'è una piccola serenata qua vicino, mi trovavo di passaggio, era obbligo di far risentire alle persone magari del sud queste piccole gesti che è bellissime. Giusto, dai l'agulio a parte mia. E a lui, qua. C'è la mia moglie che c'è patita per queste serenate, perché non se ne perde una. Non se ne perde una. Sempre un divertimento siete, mi piace, sempre allegri. Sì, è così si deve essere. Purtroppo ci sono tante persone che c'è una piccola polemica, un po' di messaggi che fanno schifo. Purtetene, fregatene. Quando tu dissi già, quando è il blocco, le levo, le dava tutto profilo. E l'ho levata, l'ho levata, l'ho bloccata. Però, mi dispiace, prima però si deve, si deve, doveva sentire che la battezzavo, prima. Ma se no forse non vedeva, capito? Ma un po', dai, divertitemi. Chiudo perché non stiamo troppo a lungo, sai, dai. C'è mio cognato, ciao Carmelo, saluto il mio cognato. Saluto il mio cognato Carmelo. Salute a me tutta, allora io ho nominato a Mendolara, giusto, del suo paese. L'ho salutato a tutti. A Mendolara, certo, ho sentito. Salute a tutti, dagli auguri agli sposi. Sì, 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 domani si sposano. Auguriamo, ciao Angelo, un saluto a tutta Mendolara. Un abbraccio. Salute bene, ciao. Ci vediamo domani. Ok, ok Angelo, ci sentiamo domani, ho sentito. Ciao Giovanna, Maria Antonietta, ciao Maria Antonietta. Una bella mazzurca. Allora, saluto Carmelo Scerra da Gela. Ciao Carlo Padale, ciao Carlo. Roberto Vitale, ciao Roberto. Carmelo Scerra da Gela. Ok, con questo non mi stresso più. Io, effettivamente, forse, ora è tutto, tutto veramente, perché effettivamente la diretta deve durare, non tanto assai, non tanto piccola, perché magari se la vogliono vedere è stressante, magari sentire una diretta un'ora, un'ora e mezza, nessuno la può sentire. Almeno, almeno uno la sente, 15-20 minuti, 25 minuti, almeno uno vede che cosa, magari, che non si perde dalla Sicilia. Allora, Gianluca Cacciarella, allora, Seminara, ciao, salutiamo, Seminara Salvatore e tutti i colleghi di Buon Riposo. Un abbraccio a Salvatore, Seminara e tutto, tutti, la Sabbi 2, Sabbi 2. Buon servizio a tutti i Sabbi 2 e tutti i Sabbi da 1 fino a 15, Sabbi 1, Sabbi 2, Sabbi 3, Sabbi 4, Sabbi 5, Sabbi 6, Sabbi 7, Sabbi 8, Sabbi 9, Sabbi 10, Sabbi 11, Sabbi 12, Sabbi 13, 14 e 15. E tutte le torrette, un abbraccio veramente di cuore, tutti i colleghi e tutto il Sabbi 3, Sabbi 1 vingendo, colpo a cortale, zenzero e forestale. Ok, buonanotte, batti le mani, scocchi le ditte, zenzero e limone per tutto, una buona tisana, io più tardo mi la continuo e mi auguro a tutti una buona tisana. e mi raccomando zenzero e limone per tutta la vita il re della zenzero il re della dirette è solo qua guardate c'è la mia maglietta guardate batti le mani schiocca le dita zenzero e limone per tutta la vita ciao Giusy buonanotte buonanotte a tutti dalla Sicilia forza Sicilia forza Sicilia un abbraccio a tutti forza Sud forza l'Italia forza mondo un abbraccio a tutto il gruppo siciliano dal Canadà un abbraccio e tutti e tutti quelli che vivono all'estero sparsi per il mondo tutta la Sicilia e l'Italia sparsi per il mondo un abbraccio a tutti veramente dalle re della zenzero